Ormai siamo a poche ora dalla resa dei conti finale tra Trump e Biden e l'America tutta è in stato d'allerta più di quanto mai sia stata per attentati esterni, come anche per la diffusione del virus del covid, e questo è il lampante effetto del virus Trump diffuso, in questi anni dà lo stesso e sparato a raffiche nelle ultime vampate dei suoi comizi nei quali non ha avuto alcuna remora a dire e ripetere, 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 temo imbrogli, siate pronti per approfondire questa notizia leggi l'articolo su vivicentro.it Termina così il nostro momento di informazione, chi volesse approfondire le news ascoltate può trovarle con tutte le altre news più interessanti del giorno sul nostro network vivicentro.it e nelle nostre edizioni regionali e sportive.